eccomi qui ragazzi allora questa è una monica routine una delle mie solite monica routine dove vi faccio vedere che mi lavo i denti e anche la faccia, vabbè la faccia me la lavo prima di registrare e il resto me la lavo ovviamente insieme a voi come i denti nel frattempo che chiediamo un po' dopo questo lavaggio dei denti lungo e interminabile stamattina invece mi sono andata a ascoltare tanta musica e tanti video vostri su youtube e nel frattempo senso time e niente basta a presto ciao se mi lavate i denti adesso poco fa vi avete anche visto e niente dunque cosa diavi di bello finalmente sto riuscendo a fare altri video vlog e clicci e si schietta altro altro lo so perché ma io sono più caldo e nulla per tipi di una oggi si è mangiata un bel pollo pollo è pollo fatto si può dire in pentola tutto bello arrostito e coloso molto buono e niente quindi non lo so oggi forse ci riesco a riuscire a toccare un po' anzi oggi non doveva per levare il mio telefono l'altro quello cello a 3c perché lo schermo si l'ha rotto anzi l'ha rotto nel senso che mi ha caduto dalle mani o dalla borsa non mi ricordo e si è scantata si è schiantata e si è come spaccolato in due pizzi nel senso che il vetro è rotto quindi l'ho dovuto fare aggiustare in assistenza e niente quindi appena forse lo faccio aggiustare ok anzi l'ho già fatto aggiustare l'ho portato quando il sabato o il vignettino infatti l'ho portato il sabato aggiustare il sabato scorso e se non ricordo male e oggi che te lunedì barra martedì domani martedì no aspettate oggi così oggi è non ricordo più non è di 4 luglio sì non è di 4 luglio e te o martedì non ricordo qui aspetta il suono che non mi dico subito no martedì 4 luglio mi ero sbagliata i limiti 3 luglio oggi ho 4 luglio ed è campionato mio padre ma ciao te ti auguri happy birthday e niente tra l'altro ho fatto anche in diretta l'auguri ma l'ho bene lo stesso e niente non lo so va bene così e niente tanto mi so che sto scopendo il telefono e io vi saluto ci vediamo al prossimo video quanto sono tirati 9 minuti di video benissimo ok a dopo anzi è un altro video ma se questo video vi è piaciuto vero vero intenso e immenso non solo dire vero vabbè like commento ci vediamo in descrizione e ti beccato per la seguida iscriverete appunto ciao